Anche quest'anno torna la saga del tartufo di Campovalano, 22esima edizione, dal 10 al 16 luglio. Vi aspettiamo tantissimi, con nuove novità di situazione della saga, abbiamo cambiato la situazione. Le ricette speriamo che siano gustose come gli altri anni e gradite da tutti. È sempre un evento molto atteso nel territorio. Questo non lo dico io, lo dicono i social, è l'evento più aspettato della provincia di Teramo almeno. Le novità di questa edizione sarà fondamentalmente il ripristino della classica tagliatella al tartufo, perché oltre alla tagliatella burro e tartufo che l'anno scorso abbiamo voluto mantenere, voluto portare avanti come che voglia di battaglia, quest'anno torna in auge la tagliatella classica al tartufo, cioè con trito di vitello, funghi misti, tartufo e specche. Oltre a questo non possiamo ovviamente non citare il classico che non sormonta mai, quindi tutto quello che è andato non bene, benissimo negli anni passati, lo riproponiamo quest'anno. Abbiamo mantenuto un piatto speciale che l'anno scorso è stata una sfida, cioè la trippa al tartufo. Quest'anno abbiamo deciso di mantenerlo e di aumentare le porzioni che saranno disponibili per tutte le sere. Oltre a questi piatti possiamo trovare dai piatti da forno, quindi parliamo di lasagne bianche al tartufo, cannelloni stile rossini con una farcia al tartufo, crepe al tartufo, le ultime che ho appena citato sono vegetariane. Per quanto riguarda invece gli altri due piatti da forno no. Altri piatti vegetariani che abbiamo per l'edizione 2023 c'è la tagliatella burro e tartufo, c'è la burrata al tartufo e altri piatti vegetariani purtroppo quest'anno non ne abbiamo, però ci stiamo attrezzando per realizzare una cucina per piatti speciali che cercheremo di inaugurare per l'edizione 2024. Come ogni anno oramai siamo abituati a dare il nostro contributo per valorizzare la necropoli, per cui avremo un'apertura straordinaria da lunedì a domenica. Sarà possibile non solo effettuare le visite guidate ma in concomitanza avremo ogni sera un qualcosa di particolare tipo musica gitana, musica medievale, avremo una serata dedicata all'osservazione astronomica e infine nella giornata di sabato e domenica avremo la rievocazione di un rito funerario e inoltre sempre nella giornata di sabato e domenica dalle 17 alle 19 sarà possibile far partecipare i più piccoli con attività di laboratorio e quindi didattica con l'utilizzo della ceramica e di altro. Grazie a tutti.